Siamo con Mino Sorbillo, titolare di Poltrona Frau Salerno, azienda leader del settore che quest'anno compie i suoi 100 anni e chiedo al titolare Mino Sorbillo come si contestualizza l'azienda Poltrona Frau all'interno dell'innovazione sociale oggi? Sì, oggi si inserisce a tutti i grandi perché la Frau è interessata non solo a produrre un prodotto per la casa ma il primo prodotto che produce oggi Frau che è interessata è l'Auto, nel settore Alto collabora con un'innovazione internazionale con l'involtitura della DSP 500 oppure le planche della Ferrari quindi è un'azienda che si estende un po' in tutti i settori, dalla casa al vivere il giornaliero al vivere il mondiale perché lei ha allestito tutti gli interni dell'Italo, il nuovo treno superveloce in funzione in Italia, come ha allestito gli interni degli aerei in America oppure nei lavori pubblici a livello mondiale, sia a Strasburgo o a altri primari hotel del mondo, da Dubai al Giappone sono alle siti, tutti da Poltrona Frau, quindi è un'azienda che si espande un po' in tutto il vivere giornaliero quindi dal giovane al professionista, quindi fa di toccare un po' tutti i rami e quindi è una consigliata una prima area del mondo